no no io penso che la Fiorentina non sia una squadra ragazzi la Fiorentina ieri si schierava con Cayote, Quarta, Ranieri Biraghi, Mandragora, Duncan Icone, Brecalo Beltran, Buonaventura questa è una squadra che deve arrivare a dodicesima, tra o tredicesima però il calo lo stai avendo adesso il calo lo stai avendo adesso non fammi dire, non dipende dai nomi dipende da come gioca guarda Antonio io voglio giocare con Dibale e Lukaku i giocatori contano nel calcio perché sennò l'Empoli perché non vincere lo scudetto perché ci sono giocatori più scarsi dell'Inter va bene tutto la Fiorentina io penso che sia una squadra che doveva intervenire molto sul mercato perché doveva dire siamo quarti abbiamo una squadra perché la Fiorentina come Rosa è l'ottava Rosa del campionato perché io come Rosa anche l'Atalanta ci è superiore come Rosa poi si va in campo e c'è l'allenatore c'è il lavoro quotidiano ci mancherebbe altro però la Fiorentina gioca ogni tre giorni il grande Bologna grandissimo Bologna appena ha giocato tre partite in una settimana è crollato è un altro sport giocare ogni tre giorni è un altro sport la Fiorentina gioca ogni tre giorni la Lazio giocherà due partite col Bayern poi andrà fuori non giocherà più ogni tre giorni il Bologna non gioca ogni tre giorni la Juventus non gioca ogni tre giorni sono tutte squadre che faranno tanti punti il giro in ritorno mentre la Roma ne perderà tanti altri l'Atalanta ne perderà tanti noi ne perderemo tanti il Milan ne perderà tanti secondo me perché se va avanti in Europa però il Milan io lo reputo ha un campionato da sola per il terzo posto quindi vediamo io onestamente la Lazio l'ho vista ieri non mi ha entusiasmato ma la Lazio giocando una volta a settimana adesso è vero che ha la Coppa quindi ha anche quattro partite in più però non lo so per me la Lazio e l'Atalanta oggi l'Atalanta per me vince e quindi va a meno uno da noi dal quarto posto e quindi si crea una bagarre pazzesca pazzesca in Napoli io lo vedo malissimo perché è una squadra e anche per la Coppa eh? non ho capito e anche per le Coppe no io penso che arriva settima, sesta chiaro ma ottava per me ragazzi io non voglio essere cattivo hanno scelto di non prendere un allenatore ma di prendere un traghettatore una vecchia gloria cioè è come se uno chiama oggi tra pattugli ad allenare la caccia è cambiato ma lo so io su Mazzarri ragazzi sarà simpatico sarà quello che volete ma come si fa a chiamare Mazzarri ragazzi nel 2024 tu credi che sia trattando credi che sia trattando con Conte a DL io so che Conte gli ha detto di no ma pare che si sia aperta un'altra strada poi ci può stare io penso che a DL andrà su italiano andrà su Conte un manager suo queste condizioni cioè Conte si deve ridimensionare per andare sia al Napoli che a Milan secondo me ragazzi perché quelle sono le due papà ragazzi un allenatore che Jacopo io penso che si sia già ridimensionato eh per forza perché sennò non puoi non puoi anche perché parliamoci chiaro Conte nelle grandissime squadre a livello di di Champions ha fallito alla Juve con la Champions ha fallito con il con il Tottenham con il Champions ha fallito col Chelsea in Champions ha fallito le grandi squadre poi oggi i grandi club vogliono chi gioca a pallone eh cioè non pigliano Allegri e Conte con tutto il rispetto per i servi che ci sono in Italia che esaltano ancora Mourinho Conte Allegri e gente che vogliono solo in Italia il Bayern Monaco non prenderebbe mai Conte il Barcellona non prenderebbe mai Conte il Real Madrid non prenderebbe mai mai Conte così come lo United così come il City quindi Conte o si accontenta di allenare a Roma Napoli Milano può andare a Lecce si può fare una bellissima villa c'ha i soldi per farlo e si gode il territorio sì perché comunque è un attore che prendeva 12 milioni cioè lui ha rifiutato non è rimasto non è rimasto all'Inter perché è andato a raddoppiare il suo stipendio altrove facendo non benissimo il Tottenham se non mi sbaglio sì no no ma infatti secondo me si ridimensiona come magari ha detto Flavio allora lo vedremo secondo me sulla panchina del Milano che secondo me è quella che magari ha maggiori ambizioni secondo me per il Napoli sì vedo bene Tiago Motta che magari deve fare uno step ulteriore no? quindi magari una squadra che non è andata bene l'anno prima però reduce due anni prima da Vittorino Scudetto secondo me sarebbe ideale per lui o per Italiano per questi giocatori che allenatori che comunque devono fare uno step no? superiore secondo me sì perché se io vado cioè finisco di allenare la Fiorentina non cioè non posso pretendere di andare o meglio può succedere sempre però lo step successivo sarebbe giusto andare a Napoli quindi ha fatto male Jacopo a non accettare quest'anno l'italiano però quest'anno era diverso perché quest'anno si rischiava la figuraccia si rischiava di bruciarsi perché il Napoli non può sembrare surreale però il Napoli sì cambia solo Kim però si è data quella secondo me è sbagliato proprio l'atteggiamento di De Laurentiis dire io posso metterci chiunque in panchina perché tanto alla fine la squadra è forte lo stesso la squadra non era forte però vince uno Scudetto a Napoli è quasi come cioè è un miracolo un miracolo sportivo e quindi fare meglio fare meglio dell'anno prima è complicato quindi secondo me l'italiano ci avrà pensato a non andare adesso l'anno dopo è diverso perché comunque c'è magari un fallimento si può resettare si deve anzi resettare io io da tutti i migliori secondo me io da tifoso sul divano mi medesimo in italiano non andrei a Napoli quest'anno non sarei andato a Napoli io a Napoli nella mia vita non ci andrei mai onestà a fare calcio no perché è una piazza è una piazza che non ha il centro sportivo c'ha un presidente che un giorno gli piace il bianco il giorno dopo gli piace il nero non ha il dire cioè Napoli ragazzi è una piazza molto particolare cioè il Napoli non ha un centro sportivo io non so se voi siete mai stati a Castelvolturno è una roba da serie C a scendere De Laurentiis è molto particolare quello che ha fatto gli utili che fa poi De Laurentiis no io io non metto in dubbio l'imprenditore è un buon aziendalista è un buon aziendalista dico solo che se tutti gli allenatori dopo tre anni sono scappati Massimo io ho una domanda che me la farei ragazzi è un buon aziendalista